Salve, sono Luciano Fraschini della Scuola Calcio Juve San Maritana di Santa Maria Capovetra in provincia di Caserta. Questo è il quarto anno che veniamo qui e quindi con Peppe Malafronte, il grande organizzatore, ci conosciamo benissimo. Per venire il quarto anno vuol dire che ci siamo trovati benissimo in tutti i posti dove siamo andati. Siamo a Torino di Sangro, un paese qua vicino alloggiati e anche per quest'anno la manifestazione è stata stupenda e ho notato che ci sono ancora più squadre dell'altro anno, degli altri anni passati. Quindi sempre bene questo torneo, non so veramente più che dire con Peppe, ormai siamo diventati amici e quindi per me è un onore venire a San Salvo. Poi siamo un gruppo di circa 90 persone, di cui 50-60 sono ragazzi, quindi un bel gruppo e organizzare il tutto è stato stupendo. Ciao Peppe, lui è uno dei dirigenti e dei genitori che ci ha accompagnato in questa bellissima manifestazione. I campi, come è stato detto, anzi questo è migliorato, hanno fatto il manto erboso, ho visto, quindi ancora meglio. Andiamo a un campo qua vicino, i campi sono tutti belli, cosa che devo dire noi lì in provincia di Caserta non abbiamo campi così belli, in erba sintetica. Siamo ancora un po' indietro con questo e con questo voglio chiudere perché è un cruccio che avevo e mi è venuto e la volevo dire questa cosa.